Clima Natalizio Valle Crosia grazie al villaggio Natalizio, al trenino di aereo, allo street Christmas e al concerto con il core e i cantanti di AMP Obiettivo Musica. Ci sono degli eventi in contemporanea, abbiamo cercato di essere presenti un po' in tutto e questi, ad esempio, di oggi è la chiusura, è il concerto dell'Associazione Pergolesi che ci ha regalato per queste attività natalizie degli eventi. L'ultimo sarà il 7 gennaio e questo è quello dell'antivigilia di Natale dove cantano i bambini e quindi l'atmosfera è sempre gioiosa quando si tratta dei bambini. A proposito dei bambini abbiamo avuto anche l'apertura del villaggio di Babbo Natale con giochi, scivoli e trucca bambini, clown e un po' di tutto e quindi Valle Crosia questa giornata l'ha dedicata proprio all'atmosfera natalizia nella speranza che tutte le famiglie possano vivere in serenità e soprattutto con tranquillità in casa con i loro cari il Natale, che il Natale è una festa diciamo che porta all'unione delle famiglie e questo che io auguro a tutti i cittadini della nostra piccola comunità, un sereno Natale e soprattutto che ci sia la famiglia unita che scalda il cuore a tutti. È un concerto degli alunni dell'Associazione Musicale Pergolesi di Valle Crosia, sono i ragazzi della classe di canto moderno e i ragazzi del coro, quindi facciamo tendenzialmente brani moderni con basi musicali e alcuni canti natalizi per festeggiare Natale di quest'anno. Tutto questo siamo aiutati dall'insegnante di canto che è Raffaella Mellace e anche coadiuvati da un altro insegnante che si occupa dei bambini che è Veronica Ioppolo. Grazie a tutti!